I cambiamenti verranno soltanto a partire dal 2 agosto 1952 quando a Santo Stefano sbarca un uomo, Eugenio Perucatti che possiamo definire direttore riformista per eccellenza e Perucatti sbarca a Santo Stefano e trova, come dirà lui, la tomba dei vivi non c'è l'acqua corrente, non c'è l'energia elettrica, le fogne erano quelle borboniche Perucatti mette in opera i detenuti come prima risorsa che lui possiede ovvero non abbiamo denaro, non abbiamo energie economiche ma abbiamo energie vive verranno messe in opera tutta una serie di innovazioni rare, anzi uniche all'interno di altri carceri, un campo di calcetto non c'era Perucatti cambia veramente le sorti di Santo Stefano Grazie a tutti